Bella a tutti ragazzi, io sono Algezius e oggi siamo qui con... Loris, bella a tutti ragazzi! Ok, come avete già potuto capire dal titolo, in questo video parliamo di sponsor e contest. È un argomento che ci avevate chiesto in tanti un po' di tempo fa, ma che non avevo mai deciso di affrontare fino in fondo. E oggi siamo qui per parlarne. Però vi rubo tre secondi all'inizio del video per dirvi che sabato esce il primo video di Clash of Clans del canale e di cui si occuperà Loris. Sì, allora volevo parlarvi un attimo di questa nuova serie. Affronteremo il gioco di Clash of Clans, so che molti di voi lo conosceranno già. E appunto guarderemo con me il mio villaggio, faremo una serie di episodi Road to Max dove andremo a potenziare alcuni edifici, alcune truppe del mio villaggio, fino a quando non le avremo maxate completamente. E poi andremo a fare una serie dove scaleremo i trofei, sperando di arrivare il più in alto possibile. Io spero Titano 2, 1, ma chissà, sarà molto difficile il più in alto, però si spera. Comunque ritorniamo al video, cioè il motivo per cui voi avete deciso guardo questo video. Le sponsor. Come si fa a essere sponsorizzati? Allora, prima di tutto mettere mi piace al video e iscrivervi al canale. Esatto. Dopodiché lasciate un commento sotto a questo video con scritto... Partecipo. Se volete potete condividere il video, abbiamo anche una pagina Facebook, quindi se vi va potete lasciare like anche lì e condividere il video. Ne terremo conto naturalmente della sponsorizzazione, non è che vi facciamo fare una cosa per niente. Like in tanti, mi raccomando. Chi è che verrà sponsorizzato? Verranno sponsorizzate tre persone al mese. Dopo se magari cresceremo in fretta, verranno sponsorizzate anche più persone. Due di queste persone saranno quelle più attive. Quindi ragazzi, per essere sponsorizzati non bisogna solo lasciare like, commentare e via dicendo. Bisogna rimanere attivi, cioè seguire i video del canale. Cioè, se Loris fa Clash of Clans, per esempio, che ne so, scrivergli attacco fantastico, che ne so, io, una cosa a caso, no? E le persone più attive verranno scelte tra me, da me e da Loris per poter essere sponsorizzate. Esatto. Inoltre, la terza persona verrà sponsorizzata in un modo molto particolare. Verrà sponsorizzata in modo diretto? Come in modo diretto? Loris, ce lo vuoi spiegare a te? Allora, in pratica, in un video a caso che scegliamo noi, inseriremo in un determinato secondo, durante il video, una certa parola. Il primo che troverà questa parola la deve scrivere nei commenti e noi, appunto, prenderemo questa persona e, appunto, la sponsorizzeremo. Quindi ragazzi, che ne so, passiamo ad esempio, facciamo una prova adesso. Adesso vi faccio uscire una parola a caso, tipo Clash of Clans. Due secondi proprio di video. La prima persona che, all'interno del video, la trova, me la scrive ed è giusta, viene automaticamente sponsorizzata nella prossima sponsor. Quindi, non male. Naturalmente, il minuto è casuale, quindi dovete guardarvi per forza tutto il video per sapere in quale minuto verrà messa la parola. Sì, sì, spera che guardiate anche il video, anche senza la sponsorizzazione. Giusto. Perché solo la prima persona che trova la parola e non tutte le altre? Per il semplice motivo che se me la scrivete per commento, tutte le altre possono prendere la prima persona, copiare la parola e incollarla. Cosa che a me non avrebbe senso. Quindi solo la prima verrà automaticamente sponsorizzata. Tutte le altre, anche se mi trovano la parola, non verranno scelte. Esatto. Veniamo infine all'ultimo argomento, che è il contest. In cosa consiste il contest? Mi è venuto questo ideo da un mio iscritto che aveva chiesto se poteva fare un video con noi. Ebbene, la persona che più commenterà, più rimarrà attiva all'interno del canale, avrà diritto a sua scelta a fare un videogioco con noi. E naturalmente questo videogioco poi verrà pubblicato sul canale. Quindi anche questo è tra virgolette un modo di sponsor o un modo per fare amicizia con noi, parlarci a tu per tu. Quindi ragazzi, rimanete attivi perché anche questo è uno degli obiettivi che vogliamo porci. Ok ragazzi, direi che possiamo concludere qua il video. Vi rivedo ancora una volta cosa dovete fare per essere sponsorizzati. Like al video, iscrivervi, lasciare un commento con scritto partecipo e rimanere attivi, mi raccomando. Solo quegli attivi, più la persona che riuscirà a trovare la parola in uno dei prossimi video di febbraio, verranno sponsorizzati a fine mese. Partecipate in tanti a questa iniziativa e io vi saluto, bella ragazzi. Quindi ragazzi, se il video è ciuto, lasciate un commento, mettete un piace, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Quindi, bella ragazzi, saluto Loris. Bella ragazzi.